Le elezioni anticipate non sono più un tabù. A due anni dall'insediamento sindacati e imprese lanciano un ultimatum a governo e deputati chiedendo una svolta, altrimenti dicono meglio tornare subito alle urne. I dati economici di questi giorni sono drammatici e spingono il leader di Confindustria, Antonello Montante, a chiedere una sorta di commissariamento soft dell'isola. Il premier Renzi si occupi personalmente della questione siciliana, dice, venga informato delle liti nel PD, delle nostre richieste, di quanto avviene nell'isola. Montante punta il dito contro governo e deputati, o in Sicilia sei in grado di fare le cose o si va tutti a casa. Non è più tempo di litigare, o si fanno le riforme o si torni subito alle urne. Michele Pagliaro, segretario generale della CGL siciliana, non usa mezzi termini. La crisi ha cancellato in cinque anni 160.000 posti di lavoro, dice. Oggi ci sono 30.000 lavoratori che hanno fatto richiesta di ammortizzatore sociale, per il quale però ci sono solo 20 milioni, di certo insufficienti. E Claudio Barone, leader della Will siciliana, svela un retroscena. C'era un mertice a Roma, al Ministero dell'Economia, per discutere di investimenti degli Eni per 700 milioni di euro. Il governo regionale non era presente. Parliamo di migliaia di posti di lavoro a rischio, mentre le riforme, dalla formazione ai forestali, restano solo annunci. Per non parlare dell'abolizione delle province, ancora non sappiamo che fine faranno i lavoratori. Maurizio Bernava, leader della CISL siciliana, sottolinea poi che siamo un'economia di guerra. Invece ragioniamo come se ci trovassimo in condizioni normali. In Sicilia siamo ancora in piena recessione. Il lavoro non si crea per legge, così si creano solo nuovi debiti. Sindacati e imprese chiedono al governo regionale Ars di realizzare un cronoprogramma sulle cose da fare per dare risposte concrete in tempi certi. Un programma che potrebbe essere portato direttamente all'attenzione del governo nazionale se Crocetta non dovesse accogliere le richieste, dicono sindacati e imprese.